Il più grande segreto di un uomo in Austria è stato mantenuto tale per più di vent'anni, ma poi, contro la sua volontà, è stato scoperto e ha scioccato il mondo intero. Amici miei, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose macabre, paranormali e il true crime, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi voglio finalmente parlarvi di un caso piuttosto famoso che però mi ha sempre affascinato, infatti non vedevo l'ora di raccogliere tutte le informazioni e raccontarvelo. Probabilmente lo conoscete già o ne avete già sentito parlare. Sono stati fatti anche un paio di film che si ispirano a questa vicenda, trovate anche vari documentari sul caso. E praticamente oggi, ragazzi, come penso abbiate già capito, parliamo del terribile segreto di Joseph Fritzel, colui che è stato soprannominato il mostro di Amstetten. Voglio informarvi del fatto che in questo video tratteremo temi come la violenza psicologica, fisica, violenza sessuale e violenza su minori. Quindi se siete particolarmente sensibili a questi temi, vi consiglio di non andare oltre, di non proseguire con la visione. Per quelli che sono rimasti invece, cominciamo subito partendo proprio dal cosiddetto mostro di Amstetten. Joseph Fritzel nasce il 9 aprile 1935 ad Amstetten in Austria. Suo padre si chiamava Joseph Senior Fritzel, quindi sì, si chiamava come il figlio. Quindi per non confondervi chiameremo il padre Joseph Senior. E sua madre invece era una donna di nome Maria Nenning. L'infanzia del piccolo Joseph non comincia nel migliore dei modi. Infatti Joseph Senior decide di abbandonare la famiglia quando il figlio ha solo 4 anni. La sua infanzia sarà quindi molto difficile, sia un po' per il contesto storico in cui nasce e cresce, ma anche proprio per la sua situazione familiare molto particolare. Parliamo quindi un po' della sua disastrosa famiglia. Sua mamma faceva fatica a rimanere incinta e all'epoca le donne che non erano in grado di fare figli venivano considerate come inutili per la società austriaca. Vabbè oddio, anche qua era un po' così all'epoca. Comunque per via di ciò, per lei la nascita di Joseph è stato un miracolo. O se vogliamo usare il termine specifico, Joseph è stato un bambino alibi, come vieneva chiamato. Ora questo termine non significa nulla e cercando sul web non si hanno praticamente più informazioni a riguardo, ma all'epoca venivano chiamati bambini alibi, tutti bambini nati con il solo intento di dimostrare alla società che la loro madre poteva effettivamente mettere al mondo dei figli e che quindi non fosse sterile. Sua madre Maria non è mai stata una mamma dolce e amorevole, penso anche per via di questo, cioè ha fatto il figlio soltanto per dimostrare che non fosse sterile. Durante l'infanzia infatti Joseph subisce continuamente maltrattamenti, violenze e umiliazioni da parte sua, di sua madre. Violenze che gli causeranno disturbi della personalità, che saranno molto importanti per spiegare il suo comportamento futuro. E con spiegare ovviamente non intendo assolutamente giustificare, ma solo capire, farci un'idea, ecco. Ma questo lo vedremo nel corso del racconto, perché è una storia veramente molto lunga, come penso abbiate visto dalla durata del video. Il padre, Joseph Senior, dopo aver abbandonato la famiglia, si arruola nella Wehrmacht, ovvero le forze armate tedesche. Quando vi accennavo il periodo storico molto difficile in cui è nato e cresciuto Joseph, mi riferivo ovviamente alla Seconda Guerra Mondiale. Ma per rinfrescarvi la memoria, spendo proprio due parole su il contesto, insomma in quegli anni, lì in Austria. Nel 1938, quindi solo tre anni dopo la nascita di Joseph, la Germania nazista ha invaso l'Austria e da quel momento il paese è rimasto sotto il rigido controllo della Germania nazista. In breve tempo l'Austria è stata annessa a pieno titolo al Reich. La maggior parte della popolazione ha accolto l'annessione alla Germania con sincero entusiasmo, ma anche in Austria esisteva una forte tradizione socialista, che è stata però rapidamente sradicata e eliminata. Nell'agosto del 1938, per ospitare i numerosi antinazisti austriaci arrestati, è stato aperto il lager di Mauthausen, nei pressi della città di Linz. È proprio in questo lager che la mamma di Joseph, Maria, viene internata nel 1945, quindi quasi alla fine della guerra. Viene internata per aver aggredito un agente di polizia e così il piccolo Joseph, a seguito di questo fatto, viene affidato a una famiglia adottiva per un po' di tempo. Oddio, forse si pronuncia Joseph. Adesso che ci penso. Non Joseph. Se voi lo sapete, scrivetemelo qui. Perché l'ho sentito pronunciare in maniere molto diverse in base a vari video e documentari che ho visto, quindi non saprei neanche io come pronunciarlo. Comunque il piccolo Joseph, a seguito di questo fatto, viene appunto affidato a una famiglia adottiva per un po' di tempo. E qui, in realtà, devo dirvi che ho trovato delle fonti un po' discordanti, perché alcune scrivono che Joseph appunto è stato affidato ad una famiglia, mentre altre sostengono che il bimbo fosse stato messo proprio in un franotrofio. In ogni caso, questa situazione dura comunque pochi mesi, perché alla fine della guerra Maria viene ovviamente liberata e Joseph torna a vivere con lei. Peccato, però, che durante la sua prigionia la salute mentale della donna era peggiorata notevolmente, e non che prima fosse così rosea. Al suo ritorno, infatti, i maltrattamenti e le violenze contro il piccolo Joseph, che in quel periodo aveva solo dieci anni, ricordate, si intensificano ancora di più. Non sappiamo, però, molto altro sulla sua infanzia e sulla sua adolescenza. Ciò che conosciamo è che Joseph si diploma in elettronica all'istituto professionale e che subito dopo tiene un lavoro all'Inns, che dista circa 60 km da Amstetten. E così Joseph va via di casa, all'età di 20 anni. Prima di continuare vi ricordo velocemente di iscrivervi al canale se vi sta piacendo passare del tempo con me, e se invece non vi sta piacendo, perché siete ancora qui? Vabbè, scusate, possiamo continuare. Poco dopo il suo trasferimento, Joseph conosce una ragazza di nome Rosemary, più giovane di lui di 4 anni, quindi aveva 16 anni o 17, in base alle fonti. I due, dopo una breve frequentazione, si innamorano quasi subito e nel 1956, quando Joseph ha 21 anni, si sposano e decidono di tornare a vivere nella città natale di Joseph, più precisamente nella sua casa di infanzia. Strano. E pensate che la mamma di Joseph andrà a vivere con loro nel 1959 e rimarrà lì fino al giorno della sua morte, fino alla morte di Maria intendo, di sua madre, che è avvenuta nel 1980. Da alcune fonti ho letto che il ragazzo, ormai adulto, avesse cominciato ad avere comportamenti violenti verso sua madre, probabilmente perché ora non era più un bambino e poteva quindi vendicarsi di tutti quegli anni di abusi. Joseph avrebbe approfittato della crescente infermità della donna per abusare di lei, obbligandola a trascorrere gli ultimi anni della sua vita in una stanza del sottotetto di casa, priva di luce naturale, tra l'altro. In parole povere, la costringeva a rimanere in soffitta per tutto il giorno, tutti i giorni, fino a quando non è morta. Joseph e Rosemary daranno alla luce la bellezza di sette figli. Quindi immaginate la situazione in casa. Amici e parenti della coppia dichiareranno in futuro che il clima familiare era molto altalenante. Joseph, infatti, passava dall'essere un genitore affettuoso a manifestazioni di estrema violenza nei confronti della moglie e dei figli, sia a livello verbale che fisico. Sei dei sette figli, infatti, tra l'altro, proprio per questo motivo, finiranno col chiudere ogni rapporto con lui appena diventati maggiorenni, pensate. Ma ora parliamo un attimo di questi figli. E credetemi, ragazzi, ci saranno tanti e tanti figli di cui parlare, quindi cercherò di spiegare tutto in modo lineare. Magari vi metto anche qualche foto della ricostruzione dell'albero genealogico della famiglia per farvi un'idea un po' più chiara. Nel 1957, Joseph e Rosemary danno alla luce la loro prima figlia, che chiamano Ulrike Fritzel. Solo un anno dopo nascono altri due figli, di nome Harald e Rosemary, stesso nome di sua madre, ovviamente, che ha l'originalità. E il 6 aprile del 1966 nasce la loro quarta figlia, di nome Elisabeth. L'anno ancora successivo, nel 67, Joseph stupra una donna di 24 anni, residente nella città di Linz. Pensate, l'uomo irrompe nella casa della donna e, approfittando dell'assenza del marito che si trovava a lavoro, ha violenta sessualmente, minacciandola con un coltello puntato alla gola. Ovviamente la donna, oddio, ovviamente non troppo, però la donna, meno male, denuncia l'accaduto e per questo fatto Joseph viene arrestato e condannato a una pena di 18 mesi di reclusione, ma finirà per scontarne solo 12. È stato anche indagato per un crimine analogo compiuto a danno di una ragazza 21enne e ripetutamente denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Insomma, arrivati a questo punto già si capisce che Joseph avesse delle pulsioni sessuali piuttosto particolari a cui proprio non riusciva a resistere. Se vi state chiedendo che cosa avesse detto Rosemary ai figli per giustificare l'assenza del padre, beh lei praticamente ha rivelato in seguito di aver detto ai figli che Joseph era via per un viaggio di lavoro, un viaggio di lavoro a quanto pare lunghissimo, vabbè. Rosemary tra l'altro ha subito perdonato Joseph per la cosa orribile che aveva fatto. In realtà questo fa emergere quanto questa donna dovesse essere succube del marito. Dopo il suo ritorno a casa, Joseph e Rosemary avranno altri due figli, due gemelli per l'esattezza, un maschio e una femmina. La femmina di nome Gabrielle e il maschio Joseph. Anche qui meriterebbero proprio un premio per l'originalità dei nomi. Nel 1972 comunque danno alla luce la settima e finalmente ultima figlia, di nome Doris. Ultima figlia per ora, oddio. Joseph inizia a lavorare in un'impresa edile e intanto acquista anche diverse proprietà in giro per l'Austria. Proprietà che inizia anche ad affittare per guadagnare un po' di soldi e sostenere economicamente la sua famiglia che ormai era diventata numerosissima. Nel 1973 acquista anche una proprietà sul lago Mondsee, luogo in cui la famiglia e amici di famiglia trascorreranno le vacanze estive da lì in poi. Mondsee è un lago situato nella regione dell'Alta Austria, a circa 140 km da Amstetten, il luogo di nascita di Joseph, sempre quello. La proprietà in questione era una sorta di pensione in cui Joseph avrebbe affittato diverse stanze, come faceva già da tempo da quando aveva iniziato ad acquistare proprietà in giro per tutta l'Austria. Joseph però non si occupava minimamente della pensione, anzi faceva fare tutto a sua moglie Rosemary. Era lei quella che si occupava della cucina, di preparare da mangiare, di rifare le stanze, di tenere tutto pulito. E se vi state chiedendo chi poi intascasse tutti i soldi, beh, ovviamente era Joseph a farlo. L'uomo non ha mai dato un singolo centesimo a sua moglie per via di questa attività, nonostante si occupasse effettivamente lei di tutto. E se lei provava solo a ribattere o a contestare qualcosa, allora Joseph la picchiava o la minacciava di chiuderla in casa e di non farla mai più uscire. Joseph, a quanto pare, aveva l'ossessione di rinchiudere le persone e penso fortemente che questo derivi da uno dei tanti traumi subiti durante l'infanzia. A quanto pare, in quel periodo la tensione in casa era alle stelle. Sia Rosemary che i figli ormai avevano il terrore di Joseph e, meno tempo lo vedevano, meglio stavano. Poco dopo, comunque, Joseph acquista l'ennesima proprietà ad Amstetten. Questa volta l'edificio era una specie di vecchio albergo perché la finalità era sempre quella di avere degli inquilini in affitto, nelle stanze o addirittura negli appartamenti perché era abbastanza grande. Così ovviamente avrebbe intascato ancora un po' di soldi. L'uomo alla fine decide di stabilirsi lì, in questa struttura, insieme alla sua famiglia. In questa proprietà, Joseph farà diversi lavori di ristrutturazione, tra cui costruire anche un seminterrato che, a detta sua, sarebbe stato il luogo che avrebbe usato solo e soltanto lui. In poche parole, sarebbe stato come il suo mini appartamento privato in cui nessuno sarebbe mai potuto entrare. Joseph sarebbe salito di sopra solo per mangiare e dormire, ma per il resto avrebbe passato le giornate lì sotto. Immaginate quindi il sollievo che provano Rosemary e i figli sapendo che ora Joseph avrebbe passato la maggior parte del tempo nel seminterrato. Nessuno era dispiaciuto di questa cosa. Anzi, questo era proprio come una sorta di liberazione, un modo per far tirare un sospiro di sollievo alla povera Rosemary e i figli, che ormai vivevano proprio nel terrore. Gli anni passano e man mano che i figli più grandi raggiungono la maggiore età, chiaramente se ne vanno via di casa. Figuratevi, cioè, non vedevano l'ora di scappare da quell'inferno e potersi finalmente fare una vita lontani da quel mostro. Siamo quindi nel 1978 e Ulrike, Harald e Rosemary non vivono più con i genitori. Rosemary la figlia, non la moglie. In casa quindi rimangono solo Elisabeth, i gemelli Gabrielle e Joseph, Joseph, non so, e la figlia più piccola, Doris. Le violenze in casa non sembrano cessare, ovviamente. Joseph, per fortuna, passa molto tempo nel seminterrato o in giro per l'Austria per gestire le varie proprietà che affittava, ma quel poco tempo che passava con la famiglia bastava per creare in realtà un clima di paura e di tensione e di violenza. In particolare, Joseph sembra canirsi su una delle figlie. E preparatevi ragazzi perché da questo momento in poi entriamo nel vivo della vicenda di oggi. Da questo momento raccontiamo a tutti gli effetti il terribile caso del mostro di Amsterdam. Moltissimi di voi già sanno quello di cui sto per parlare e quindi sanno a quale delle figlie mi riferisco. Sto parlando di Elisabeth. Elisabeth era molto diversa dai suoi fratelli. Non era mai stata una ragazza giocosa ed estroversa, anzi tutto il contrario. Elisabeth se ne stava spesso sulle sue, era timida, introversa, silenziosa e Joseph questa cosa l'aveva notata. Oddio, l'ha notata solo quando i figli più grandi se ne sono andati via di casa perché in questo modo l'uomo ha avuto modo di concentrare le sue violenze sui figli rimasti. Un'amica di famiglia in una futura intervista affermerà che durante le vacanze estive ogni volta che parlava con Elisabeth aveva come l'impressione che la ragazza fosse terrorizzata da qualsiasi cosa. Era piuttosto schiva e spaventata proprio in generale e nessuno però riusciva a capire il perché. Ricordate che all'epoca nessuno era al corrente degli abusi di Joseph. Agli occhi della società lui era un brillante uomo d'affari, un buon padre e anche un amico molto fedele. Nessuno pensava che dentro le mura di quella casa si celassero le peggiori violenze. Ma andiamo con ordine. Quando Joseph inizia a molestare Elisabeth, avete capito bene, lei ha solo 11 anni, praticamente una bambina. Le molestie purtroppo vanno avanti per tutti gli anni della sua adolescenza. Non è mai stato ben chiaro se la mamma Rosemary fosse al corrente di tutto ciò che accadeva. Io penso in qualche modo, in qualche misura di sì, ma il clima di terrore dentro casa era così forte che nessuno osava dire una parola contro Joseph. Nel 1981 Elisabeth finisce la scuola dell'obbligo e a 15 anni intraprende un corso professionale per lavorare come cameriera. Nel 1982 Joseph viene di nuovo arrestato ma per un altro motivo. La pensione di cui la famiglia si occupava sul lago Montse prende fuoco un giorno all'improvviso, non un giorno, anzi una notte, e quando i soccorsi e la polizia arrivano sul posto capiscono immediatamente che si era trattato di un incendio doloso e arrestano Joseph, quindi un incendio che era stato provocato in maniera volontaria. Tutti pensavano che l'uomo avesse appiccato l'incendio per intascarsi i soldi dell'assicurazione ma Joseph verrà poi rilasciato per mancanza di prove e questo fatto non verrà mai più portato alla luce, non verrà più approfondito. Ma questo purtroppo non sarà né il primo né l'ultimo crimine per cui Joseph non verrà arrestato. Ve ne parlerò meglio dopo, verso la fine. Intanto la situazione in casa Fritzl non migliora affatto, anzi. Il fatto che ora Elisabeth passi più tempo fuori casa per lavorare e studiare non piace per niente al padre Joseph, che ha l'impressione di vedere sua figlia sempre di meno e quindi di poter esercitare sempre meno potere su di lei. La ragazza, d'altro canto, è stanca e sempre più terrorizzata, impaurita. La sera dopo lavoro non vuole mai tornare a casa e si ferma spesso a dormire da un'amica, con la scusa di essere più vicina al lavoro, ma ovviamente lo fa solo per stare il più lontano possibile da quel mostro di Joseph. La possibilità di avere una svolta in questa storia arriva solo nel 1983, quando Elisabeth ha ormai 17 anni. Nel gennaio di quell'anno la ragazza decide di scappare di casa con una sua amica, probabilmente esausta di tutte quelle violenze e tutti gli abusi a cui veniva sottoposta ogni giorno da anni. Le due amiche decidono di dirigersi verso la capitale, Vienna, che dista quasi 130 chilometri da Amstetten, con la speranza di lasciarsi finalmente tutte quelle violenze alle spalle. Purtroppo però le due sono ancora minorenni, non hanno tanti soldi con loro, ovviamente, né un posto dove andare. Infatti per qualche giorno rimangono in giro per la città letteralmente a vagomondare, fino a quando alcuni poliziotti di Vienna le notano. Poco dopo la fuga di Elisabeth, infatti, Joseph e Rosemary avevano subito emanato l'avviso di scomparsa e i volantini con la loro faccia, con la faccia di sua e della sua amica, erano arrivati fino a Vienna. Quindi la polizia ci ha messo solo tre settimane in totale dalla fuga a trovarle. L'hanno quindi presa in custodia e hanno aspettato l'arrivo di Joseph. Non riesco nemmeno a immaginare come si sia sentita la povera Elisabeth in quel momento, ad aver assaporato la libertà per così poco tempo e col terrore che adesso Joseph sarebbe stato ancora più arrabbiato e ancora più violento con lei. Se questo non è l'inferno, ragazzi, io non so che cosa sia, sinceramente, perché adesso capirete che cosa farà. Perché purtroppo nemmeno la povera Elisabeth poteva immaginare quali orrori avrebbe dovuto subire da quel momento in poi. Nessuno se lo poteva immaginare perché questa storia supera qualsiasi tipo di immaginazione. Dopo il suo ritorno a casa, Elisabeth ricomincia a studiare nel settore alberghiero e a lavorare come cameriera, ma spesso non fa rientro a casa dopo lavoro oppure non torna addirittura per giorni interi. E questo ovviamente non piace per nulla a Joseph, che dopo la fuga è terrorizzato dal fatto che lei scappi ancora. Tutte queste preoccupazioni incessanti però non erano scaturite dal fatto che lui fosse un padre amorevole, fosse preoccupato per la sua figlia adolescente. No, assolutamente. Erano solo dettate dalla sua mente malata e controllante che la voleva avere sempre lì pronta a soddisfarlo. È in quell'anno quindi che Joseph decide di ultimare i lavori nel semi interrato per renderlo un vero e proprio bunker. In realtà dal 1981 Joseph si era messo segretamente a lavoro per ricavare nello scantinato un vero e proprio bunker dalla superficie calpestabile iniziale di 35 metri quadri. Era suddiviso in alcune stanze tutte prive di finestre, ovviamente. Ecco perché stava sempre nello scantinato. Stava letteralmente costruendo tutto ciò. Una prigione. Un bunker. Il soffitto comunque lì sotto era alto 1,70 m. Solo 1,70 m. E il bunker era accessibile attraverso una doppia porta blindata. Per aprire le elettroserrature occorreva un apposito codice di cui solo lui era conoscenza. I locali non erano disposti immediatamente dietro la parete dalla porta d'ingresso, però c'era uno stretto corridoio lungo circa 5 metri che conduceva ai locali abitabili e includevano una stanza dotata di un angolo di cottura, lavandino, doccia, WC, tavolino, oltre a due piccole camere da letto. Piccolissime. Gli arredi comprendevano anche un frigorifero e un congelatore per conservare il cibo, una lavatrice, un televisore con videoregistratore e una radio. La ereazione era garantita da un pozzo di ventilazione, le stanze erano insonorizzate mediante dei tappettini di gomma fissati per terra ai sui muri e quindi potete immaginare, insomma, che tipo di posto era e perché lui lo stesse costruendo. Joseph per tutti questi lavori chiederà aiuto a un amico di famiglia, un uomo di nome Walter Lang, che sarà la sola ed unica persona ad essere a conoscenza di questi lavori nel seminterrato, oltre a Joseph. Nessun altro, oltre a lui, era al corrente di cosa stesse costruendo Joseph lì sotto. I lavori vanno avanti fino all'estate del 1984 e il 24 agosto di quello stesso anno Elizabeth scompare nel nulla. Quel giorno Joseph si trova da solo in casa con Elizabeth. Non a caso l'uomo aveva aspettato che uscissero tutti per rimanere da solo con la figlia. Dopo averle tese una trappola per attirarla nel seminterrato, Joseph la sorprende alle spalle mettendole un fazzoletto imbevuto di etere sul viso e facendole quindi di perdere i sensi. Poi procede a incatenarla alla parete per essere sicuro che non potesse muoversi e per essere certo che non scappasse. E da quel momento nessuno avrà più notizie della povera Elizabeth. Nei giorni seguenti i coniugi Fritzl denunceranno la scomparsa di Elizabeth, sostenendo che si fosse allontanata volontariamente per unirsi ad una sorta di setta. Una setta religiosa che in quegli anni comunque erano piuttosto diffuse. Gli inquirenti ritengono plausibile la storia per via dei precedenti tentativi di fuga della ragazza e questa versione trova conferma poi in una lettera arrivata a casa Fritzl. Lettera scritta a mano ovviamente dalla stessa Elizabeth, in cui la ragazza diceva che aveva deciso di scappare per unirsi a un gruppo di persone che si stavano prendendo cura di lei e ribadiva di non provare a cercarla perché non voleva assolutamente essere trovata. Rosemary rimane profondamente addolorata da questa lettera, ignara del fatto che era stato proprio Joseph a costringere Elizabeth a scrivere quelle parole al piano di sotto. Solo un paio di giorni dopo la sua finta scomparsa, infatti Joseph aveva costretto la figlia a scrivere quella lettera per inscenare una sorta di fuga e quindi per non destare sospetti. Aveva poi preso quella lettera e aveva guidato fino ad una città a quasi 200 chilometri di distanza per poi spedirla da lì e così rendere ovviamente la teoria della fuga più credibile. E purtroppo ragazzi questa cosa funziona. Nei mesi e negli anni successivi nessuno avrà mai il minimo sospetto che lì nel seminterrato proprio sotto la casa ci fosse Elizabeth da sola e incatenata a una parete senza la possibilità di scappare. Joseph in quel periodo si reca quasi tutti i giorni nel seminterrato, dalla mattina fino alla sera ovviamente, per attuare le peggiori violenze su Elizabeth. Ovviamente dice alla moglie Rosemary e gli altri figli di non disturbarlo per nessun motivo perché doveva lavorare. E come abbiamo già detto e ridetto, tutti i membri erano felici di non vederlo in giro per casa perché tutti avevano il terrore di lui. Dopo due giorni di immobilità totale per i successivi sei mesi, Elizabeth viene lasciata legata a un windsaglio, lungo appena quanto bastava per permetterle di raggiungere i servizi igienici. Era in un ambiente umido e malsano, non riscaldato né termoisolato, che era quindi gelido o caldissimo a seconda del clima. Il padre entrava nel bunker, proprio nella stanza in cui si trovava Elizabeth, tendenzialmente almeno una volta ogni tre giorni. E per via della continua alternanza tra luci accese e spente, Elizabeth perde presto la cognizione del tempo. Joseph ogni tanto le porta qualcosa da mangiare, ma il più delle volte la sevizia e la violetta, la manetta durante le molestie o ancora l'obbliga a guardare i film pornografici per poi costringerla a ripeterne le scene insieme a lui. Tutto questo mentre la sua intera famiglia continua a vivere la propria vita letteralmente al piano di sopra come se nulla fosse, perché non sapevano nulla. Tra l'altro nella struttura non vivevano soltanto i coniugi Fritzel con i propri figli, perché se vi ricordate Joseph affittava anche alcune stanze a degli inquilini. In un documentario infatti che spiega tutta la vicenda ci sono delle testimonianze di due degli inquilini che in quel periodo avevano vissuto nella casa e loro affermano che la prima regola che Joseph aveva imposto al loro arrivo era di non andare mai per nessun motivo al mondo ne siamo interrato. Questa era la prima regola fondamentale da non infrangere assolutamente, perché altrimenti sarebbero stati immediatamente sfrattati. Con il fatto che ognuno conduceva la propria vita e quindi stavano spesso fuori casa durante il giorno, a nessuno è mai venuto in realtà il sospetto che lì sotto ci fosse rinchiusa una persona, tantomeno che fosse la stessa figlia di Joseph. Ed è questa secondo me la parte più straziante della storia. Recentemente sul mio canale abbiamo parlato di casi di rapimento, di cui il più recente se non sbaglio è quello di Colleen Stan, la ragazza nella scatola, che è stata rapita da Cameron Hooker e tenuta prigioniera per sette anni. E questa storia è già più sconvolgente. Se pensiamo che in questo caso Elisabeth si trovava letteralmente sotto casa sua e che veniva abusata dal suo stesso padre senza che nessuno potesse neanche sentirla, cioè è davvero straziante. Questa è la storia di rapimento più scioccante che io abbia mai sentito e raccontato. La prima volta che ho sentito questo caso ragazzi pensavo che in realtà fosse falso, cioè che fosse una storia, cioè non avevo capito che fosse una storia vera, pensavo fosse inventata. Perché chi penserebbe mai che un padre possa fare una cosa del genere alla propria figlia? Ma purtroppo vi dico che siamo solo all'inizio. Dopo sei mesi di prigionia Joseph decide di slegare Elisabeth, ma ovviamente non lo fa per premura, piuttosto perché le catene iniziavano a dargli fastidio durante i rapporti o quando abusava di lei. Questa spaventosa routine va avanti per mesi, fino ad arrivare all'estate del 1986. Elisabeth in quel periodo comincia a non sentirsi bene e ad avere spesso la nausea, per poi constatare che aveva un ritardo nel ciclo. In quel momento realizza di essere incinta. Quando lo comunica al padre Joseph lui non fa una piega, anzi nella sua mente contorta è felice di poter donare una nuova vita. Purtroppo però a soli due mesi dall'inizio della gravidanza Elisabeth ha un aborto spontaneo. La ragazza ovviamente non viveva in condizioni idonee a far crescere un bimbo nella sua pancia. Il bunker era freddo, umido e la ragazza non era nello stato psicologico né tantomeno fisico adatti per portare a termine una gravidanza. Questa perdita però la segna tantissimo. Elisabeth rimane traumatizzata da questo fatto, inizia a dormire tutto il giorno senza avere le forze di muoversi, di mangiare o di andare in bagno. Elisabeth cade in una profonda depressione e nonostante tutto questo Joseph continuava a farle visita quasi ogni giorno per farle delle violenze. Arriviamo così al 1988, anno in cui Elisabeth rimane nuovamente incinta. La ragazza questa volta però lotta con tutte le sue forze per superare questa gravidanza e per non perdere il bambino e incredibilmente ci riesce. Il 10 agosto di quell'anno Elisabeth dà alla luce la sua prima figlia, una bambina che chiama Kerstin. Elisabeth partorisce da sola, con le sue sole forze, in quell'umido e puio bunker. Da qui capiamo quanto fosse forte, quanto avesse riposto in quella bambina tutte le sue speranze e tutto il suo amore, perché la ragazza vedrà quella bambina come una sorta di salvezza. Nonostante fosse nata da un abuso da parte del suo stesso padre, nonostante lei ormai fosse prigioniera da 4 anni, nonostante avesse partorito totalmente da sola con il rischio di non sopravvivere, lei ripone in Kerstin tutto il suo amore. Ora Elisabeth non è più da sola nel bunker, ha un'altra vita di cui prendersi cura e giura fin dal primo giorno di prendersi cura di lei e di amarla con tutto il cuore e con tutte le sue possibilità. Solo un anno dopo, nel 1989, Elisabeth rimane di nuovo incinta e dà alla luce il suo secondo figlio, questa volta un maschietto, che chiamerà Stefan. Anche questa volta la ragazza, che a questo punto ha 23 anni, partorisce da sola, al buio e con le sue sole forze. I primi due figli non vedranno mai la luce del sole per tutto il lunghissimo tempo della prigionia. Nel 1992 poi Elisabeth dà alla luce una terza figlia, che chiama Lisa. Lisa però non rimarrà molto tempo nel bunker, perché quando la bimba ha solo 8 mesi, Joseph decide di portarla via da Elisabeth. Il motivo per cui lo fa è che Lisa non era come Kerstin e Stefan, perché a differenza loro, lei piangeva tantissimo e necessitava in generale di più cure, anche mediche e di più attenzioni. Joseph allora, temendo che prima o poi qualcuno avrebbe sentito i pianti e le urla incessanti della bimba, e spaventato ovviamente che tutto questo potesse venire allo scoperto, decide di prendere Lisa e di farla trovare magicamente davanti alla porta di casa. La stessa casa ovviamente in cui viveva con Rosemary e con gli altri figli. Una mattina quindi Rosemary apre la porta d'ingresso e trova la piccola Lisa davanti alla porta e insieme alla bimba trova anche un biglietto. Biglietto scritto dalla stessa Elisabeth. Sul foglio c'è scritto che la ragazza non può permettersi di tenere la bambina con sé e quindi aveva deciso di darla via, di darle in adozione alla sua stessa madre, Rosemary, perché così avrebbe avuto la possibilità di crescere in un ambiente sicuro e familiare. Che oddio. Non l'avrebbe mai fatto, fosse stato vero che era scappata, perché sapeva che quello lì non era assolutamente un ambiente sicuro e familiare, era un ambiente violento, teso. Però purtroppo Rosemary non dubita un attimo di questa lettera. La lettera ovviamente viene portata all'autorità e agli assistenti sociali e tutti cascano nella trappola perché ovviamente non sapevano come fosse effettivamente il clima in famiglia. Così nessuno fa ulteriori accertamenti, anche perché i coniugi Fritzl risultavano entrambi incensurati. E se vi state chiedendo come mai, visto che Joseph era stato arrestato per vari crimini in passato, beh a quanto pare la feddina penale di Joseph era stata espurgata dai crimini da lui commessi anni prima, perché in teoria, quello che ho capito, i suoi crimini sono stati dichiarati estinti dopo 15 anni per via della legge austriaca di quel tempo. Cosa che trovo non abbia nessun senso, però purtroppo così è stato. Quindi, sempre purtroppo, i coniugi ottengono l'affidamento senza che nessuno indagasse oltre. Quindi Joseph, che ha ormai 57 anni, sta letteralmente crescendo sua figlia, una figlia che ha avuto con la sua stessa figlia, insieme agli altri figli che ha avuto con sua moglie. Scusate il giro di parole, ma è letteralmente così. Nel 1994 Elizabeth dà alla luce una quarta figlia, una bambina che decide di chiamare Monica. Monica seguirà le stesse orme di Lisa e non rimarrà molto tempo nel bunker, perché anche questa volta Joseph decide di toglierla dalle mani di Elizabeth. Monica verrà trovata davanti alla casa di Fritzel dentro un passeggino, ma questa volta senza nessun biglietto scritto da Elizabeth. Perché Joseph decide di fare qualcosa di diverso per rendere la cosa ancora più credibile, tra virgolette, perché non ha pensato proprio a tutto. Joseph decide di far registrare alla figlia Elizabeth un messaggio, probabilmente tramite un registratore, e nel momento in cui Rosemary trova la piccola Monica davanti a casa riceve una telefonata. Nella chiamata si sente la voce di Elizabeth, o meglio si sente un messaggio vocale che Joseph le ha fatto registrare, e lo fa passare come un semplice messaggio di segreteria, insomma. In poche parole il messaggio diceva le stesse cose della lettera, Elizabeth diceva di occuparsi della bimba perché lei non ne sarebbe stata in grado, e chiedeva quindi ai genitori di prendersene cura. Ma quello che risulta strano questa volta anche a Rosemary è che i coniugi Fritz l'avevano cambiato numero qualche mese prima, e per questo l'utenza telefonica della famiglia non appariva più sull'elenco pubblico, sull'elenco quello che noi chiamiamo le pagine gialle, ok? Quindi come aveva fatto Elizabeth a procurarsi il nuovo numero di telefono? Come aveva fatto a lasciare un messaggio nella segreteria? Questo è probabilmente il primo sospetto che Rosemary ha avuto, ma purtroppo nemmeno a seguito di questo verrà fatta qualche indagine, e anche Monica sarà data in affidamento ai coniugi Fritzl. A seguito della nascita però di questa nuova figlia, di Monica, Joseph aveva deciso di ampliare il bunker perché appunto sapeva che la famiglia si sarebbe allargata ancora di più, avevano bisogno di più spazio. Mio Dio. Quindi da 35 metri quadri si passa a 55 metri quadri di spazio, ma ovviamente Joseph non poteva chiamare architetti e operai per portare a termine i suoi lavori, e ha deciso quindi di farlo fare, di fare fare tutto quanto a Elizabeth e i suoi figli, che ormai erano comunque un po' cresciuti. Dalle fonti si dice che Elizabeth abbia scavato letteralmente solo con le sue stesse mani. Nel 1996 poi Elizabeth rimane di nuovo incinta e questa volta di due gemelli, due maschietti che verranno chiamati Michael e Alexander. Purtroppo, a soli tre giorni dalla nascita, il piccolo Michael muore per problemi respiratori. Come è emerso successivamente, Joseph era presente quando il volto del bambino è iniziato a diventare viola, ma si è rifiutato categoricamente di chiedere aiuto ad un medico. Probabilmente temeva che venisse scoperta la situazione. Elizabeth lo aveva supplicato con tutte le sue forze di portarlo in ospedale, ma Joseph si era rifiutato. E così il piccolo Michael aveva perso la vita soli tre giorni dalla nascita. Joseph farà scomparire il corpo del neonato, bruciandolo nella caldaia di casa e gettando le ceneri in giardino. Il piccolo Alexander avrà poi lo stesso destino di Lisa e Monica e anche lui verrà dato in affidamento ai coniugi Fritzel. Nel 2002 Elizabeth dà alla luce poi il suo settimo e finalmente ultimo figlio, un maschietto che chiama Felix. A questo punto Elizabeth ha 36 anni e siamo a 18 anni di prigionia. 18 anni in cui Elizabeth non aveva visto la luce del sole. Sono tantissimi. Più rispetto a quanto ne aveva quando c'è entrata in quel bunker. Felix, a differenza di Lisa, Monica e Alexander, rimane a vivere nel bunker insieme a sua mamma Elizabeth e insieme anche ai suoi fratelli. In tutti questi lunghi anni di prigionia i bimbi rimasti con Elizabeth nel bunker non hanno mai ricevuto un'istruzione, ovviamente. Joseph non permetteva loro nemmeno di ricevere le cure mediche di base, non aveva permesso Elizabeth di partorire in ospedale in maniera sicura e aveva visto il suo stesso figlio morire davanti a lui senza fare nulla. Quindi l'istruzione direi che era qualcosa che Joseph non contemplava molto e Elizabeth nel corso degli anni quindi ha fatto quello che poteva per insegnare i suoi figli a leggere, scrivere e comunque capire un po' come funziona il mondo. Se ricordate all'inizio della storia vi ho descritto più o meno come era strutturato il bunker e vi dicevo che nel seminterrato Joseph aveva fatto mettere anche una televisione e una radio. Ecco è proprio grazie alla televisione che i figli di Elizabeth hanno la possibilità di sentire altre persone oltre alla loro mamma Elizabeth. Se ci pensate infatti Kirstin, Stefano e Felix non avevano mai visto altre persone che non fossero i loro genitori e crescendo ovviamente hanno iniziato a fare domande, farsi domande. Chiedevano costantemente ad Elizabeth perché dovevano rimanere chiusi lì dentro mentre in televisione vedevano le altre persone fuori, persone come loro che uscivano però andavano nei parchi loro, viaggiavano, vivevano. Elizabeth non ha mai nascosto i figli la verità sul fatto di che cosa ci fosse là fuori e non ha mai nemmeno provato a mentire sulla vera natura di Joseph, sul fatto che fosse lui il responsabile di questo e che fosse a causa sua che non potevano mai uscire fuori. E sinceramente io penso che sia stato un vero e proprio miracolo che i figli siano sopravvissuti in quell'ambiente per così tanto tempo. Immaginate che non hanno mai visto la luce del sole questi bambini proprio, sono cresciuti senza assorbire nemmeno un briciolo di vitamina D, senza essere mai visitati da un medico, senza aver mai consumato un pasto nutriente, cioè il bunker oltretutto era umidissimo e come vi dicevo le temperature erano altalenanti ovviamente, in base alla temperatura esterna che c'era fuori, dentro ovviamente si è adattato, quindi se c'era freddissimo faceva freddissimo anche dentro. Questo non sarebbe nemmeno un luogo ideale per dormire una notte, figuriamoci viverci per tutti questi anni, figuriamoci crescere lì dentro dall'inizio della propria vita senza mai uscire. E infatti, per via di questo, c'è un giorno in cui Kerstin, la figlia maggiore di Elisabeth, si sente male. Era già capitato ovviamente in passato che i figli stessero male, anche tanto male, cosa ovvia, dato che avevano un sistema immunitario debolissimo e non potevano avere accesso a medicine e trattamenti adeguati, ma questa volta Kerstin sta peggio del solito. A questo punto della storia siamo nell'aprile del 2008 e siamo a 24 anni di prigionia. 24 ragazzi, è praticamente la mia età. E se penso che Elisabeth è rimasta chiusa lì dentro per tutto questo tempo, mentre il mondo andava avanti e mentre i suoi fratelli crescevano, si sposavano, avevano figli... Mio Dio! Lei intanto si perdeva tutte le cose più belle della vita, della gioventù... Vabbè. Comunque Kerstin ha ormai 19 anni e il 19 aprile del 2008 si sente malissimo, questa volta più del solito. Le viene una febbre altissima e continua a perdere i sensi. Elisabeth ovviamente non sa più cosa fare per farla stare bene, per farla stare meglio. Capisce in fretta che quella non era una semplice influenza o un semplice virus passeggero, era qualcosa di molto più serio, che necessitava immediatamente di cure. Cure adeguate. Joseph inizialmente però si rifiuta di portare Kerstin all'ospedale, ma Elisabeth va letteralmente fuori di testa. Lo supplica di salvare sua figlia. E alla fine, dopo, penso, una scenata, l'uomo cede alle sue suppliche e consente nel chiamare i soccorsi. Ma ovviamente, ragazzi, non è che lo fa perché davvero tenesse alla vita di sua figlia, eh. Più che altro, aveva subito pensato che sbarazzarsi del cadavere sarebbe risultato troppo complicato, dato che Kerstin era ormai quasi un'adulta. La sua unica e sola condizione, ovviamente, per portarla all'ospedale, era che sarebbe andato solo lui con Kerstin lì, mentre Elisabeth sarebbe rimasta nel bunker con Stefan e Felix. Joseph quindi chiama un'ambulanza e così Kerstin, per la prima volta nella sua vita, esce dal bunker. Arriva all'ospedale di Amstetten in condizioni davvero critiche e viene ricoverata in stato comatoso a causa di un'insufficienza multiorgano. Una particolare condizione che porta al malfunzionamento di uno o più organi fino ad arrivare al collasso totale di essi. I medici iniziano subito con gli esami e notano immediatamente che la ragazza avesse delle carenze gravissime di ogni tipo, in particolare una grave carenza di vitamina D. E notano anche che Kerstin era estremamente pallida, magra, i suoi denti erano tanto consumati. I dottori quindi cominciano a fare domande a Joseph, chiedono spiegazioni ovviamente, ma soprattutto gli chiedono dove fosse la madre. Joseph ovviamente aveva preparato un discorso per giustificare tutto questo, addossando tutta la colpa, l'intera colpa, sulla povera Elisabeth. Lo so che in questo momento vi sta venendo un nervoso inspiegabile, anche io più andavo avanti con la storia più avevo voglia di spaccare tutto, ma siamo quasi al punto di svolta di questa storia, quindi resistete. Joseph si presenta all'ospedale con una scusa, veramente, una lettera, la solita lettera scritta da Elisabeth. In pratica Joseph afferma di essere tornato a casa quella notte e di aver trovato la povera Kerstin agonizzante nella tromba delle scale di casa. Aveva indosso, cioè teneva in mano un biglietto firmato da Elisabeth che supplicava di portare la ragazza in ospedale. Joseph, oltre a quella lettera, consegna anche una delle lettere più recenti ricevute dalla figlia Elisabeth, lettera in cui affermava di vivere in clandestinità, tipo, presso la sette religiosa, insieme ai figli Kerstin, Stefan e Felix. I medici però hanno subito qualche dubbio sulla versione di Joseph e decidono quindi di avvertire le autorità per segnalare la cosa. Sembrava strano, come era possibile? Quando la polizia arriva quindi si decide subito di pubblicare un appello affinché la madre di Kerstin si mettesse in contatto con loro e raggiungesse la figlia in ospedale. Appello che ovviamente Elisabeth non avrebbe mai visto. Era appunto nel bunker, lei non faceva parte di nessuna setta, vabbè. I poliziotti a quel punto decidono di riaprire i fascicoli dell'indagine sulla scomparsa di Elisabeth Fritzl. Le dichiarazioni di Joseph e le presunte lettere della figlia vengono quindi sottoposte a un consulente forense di nome Manfred Walfart, studioso ed esperto di sette religiose. Manfred solleva subito numerosi dubbi sull'esistenza del gruppo descritto da Joseph. L'uomo infatti nota come le lettere avessero espressioni e incongruenze ricorrenti, ipotizzando che siano state dettate o artefatte. Joseph a quel punto si sente messo un po' alle strette e prende quindi la difficile decisione, difficile per lui ovviamente, di liberare Elisabeth e di portarla in ospedale. Perché è consapevole che la polizia non avrebbe smesso di cercarla. Il 26 aprile 2008, quindi una settimana dopo il ricovero di Kerstin, Elisabeth esce dal bunker dopo 8.516 giorni di sequestro. I figli Stefano e Felix vengono portati a Rosemary al piano di sopra e Joseph ovviamente li presenta come i figli di Elisabeth, che avevano finalmente deciso di tornare dopo la sua fuga durata 24 anni. Joseph poi porta Elisabeth all'ospedale e nel tragitto la minaccia di uccidere tutti i suoi figli se mai avesse tentato la fuga o avesse provato a rivelare la sua storia. Non appena i due giungono alla struttura sanitaria, la polizia provvede subito a fermarli e a condurli al commissariato più vicino per interrogarli separatamente. Per un giorno intero, sia Joseph che Elisabeth si rifiutano di rispondere alle domande degli inquirenti. Joseph ha paura di essere scoperto, mentre Elisabeth ha ancora il terrore che Joseph avrebbe ucciso i suoi figli se avesse parlato. Tuttavia la polizia ormai capisce benissimo che in tutta quella storia della setta non c'era un briciolo di verità. Così spingono la ragazza a raccontare tutto quello che le era successo davvero. Gli inquirenti comunicano a Elisabeth che, vista la situazione, molto molto delicata, molto probabilmente le avrebbero portato via tutti i figli. E in quel momento lei cambia idea e inizia a parlare. Elisabeth non poteva immaginare nemmeno per un secondo di tornare in quel bunker da sola senza i suoi figli. Così racconta tutto. Proprio tutto. I 24 anni di prigionia, i figli, gli sturi, le violenze, la storia della setta, le finte lettere, tutto. A seguito della confessione di Elisabeth poco dopo la mezzanotte di quello stesso giorno, gli agenti di polizia arrestano Joseph Fritzl, che ormai aveva 73 anni. Lo arrestano con l'accusa di sequestro di persona, stupro, omicidio colposo in relazione alla morte di Michael e incesto. L'uomo viene ulteriormente interrogato, ma all'inizio rifiuta di collaborare. La polizia quindi lo conduce fino a casa, dove trovano due bambini non dichiarati, ovvero Stefano e Felix, che erano i due figli che non erano mai usciti dal bunker. La polizia chiede quindi a Joseph dove fosse il bunker di cui parlava Elisabeth, ma Joseph ha la faccia tosta di dire che non c'era nessun bunker e che tutta quella storia era inventata. Gli agenti a quel punto però non se la avevano più. Joseph ormai risultava il primo sospettato e quindi minacciano di sfondare il muro e il pavimento se non si fosse fatto avanti per portarli lì. Solo a quel punto Joseph cede e apre la porta di quella prigione sotterranea, conducendo gli agenti al suo interno. La polizia a quel punto capisce di trovarsi davanti... scusate c'è una masca... La polizia a quel punto capisce appunto di trovarsi davanti a uno dei casi di rapimento più gravi che avessero mai dovuto affrontare, mai potuto pensare e affrontare. Il bunker era davvero troppo umido ed era pieno di muffa. C'era così tanta muffa che gli agenti dichiareranno in seguito che non era possibile rimanere lì dentro per più di tre ore. Immaginate quindi restarci per anni. Joseph oltretutto avrà la faccia tosta di dire che tutto quello che ha fatto lo ha fatto per il bene di Elisabeth perché all'epoca era una ragazza troppo ribelle ed era già scappata tante volte e quindi quella per lui era l'unica soluzione per tenerla sicuro. Cioè fino alla fine Joseph provava a difendere l'indifendibile. Elisabeth e i suoi figli vengono tutti portati in una clinica psichiatrica dove trascorreranno diversi mesi e nello stesso periodo verrà chiesto a Joseph di fornire un campione del suo DNA. Ovviamente Joseph all'inizio rifiuta consapevole del fatto che se avesse fornito il DNA sarebbe venuta fuori la verità ma alla fine si trova costretto a farlo. Ovviamente il test del DNA conferma, parla chiaro, conferma la paternità di Joseph e quindi accerta anche l'incesto. Joseph viene quindi messo in stato di fermo e viene ulteriormente interrogato ma durante tutto il racconto minimizza completamente l'accaduto. Agli inquirenti dice di non considerare Elisabeth come una figlia ma come una compagna e dichiara poi che il loro rapporto era consensuale, non a parole. Se le avete voi meglio perché io davvero non riesco a spiegarlo. In un primo momento Joseph nega tutte le accuse di violenza sostenendo appunto che il rapporto incestuoso fosse consensiente ma in seguito prova a giustificarsi sia evocando i trascorsi di violenza con la madre sia chiamando anche in causa la Bibbia. Dichiarava anche di provare affetto nei confronti dei figli nati dall'incesto e di essersi adoperato per rendere la vita ai suoi ostaggi il più felice possibile. Secondo gli psichiatri Joseph era incapace di dominare i propri desideri e le proprie pulsioni e inoltre risultava anche freddo, calcolatore e del tutto a suo agio nel condurre più vite parallele e anche nel manipolare la realtà a proprio piacimento. Il suo carattere era quindi all'insegna del narcisismo e della mancanza di empatia per cui le altre persone erano unicamente viste come strumenti per soddisfare i suoi bisogni. La perizia psichiatrica pur riscontrando in lui gravi disturbi di personalità attesta la capacità di intendere di volere. Per quanto riguarda Rosemary non è mai stato chiaro che lui lo avesse, infatti il suo silenzio nei 24 anni del sequestro rimane uno dei punti oscuri del caso. La donna ha sempre dichiarato di non essersi mai accorta di nulla, mai non avrebbe mai pensato che esistesse addirittura un bunker né tantomeno della presenza al suo interno di sua figlia e dei suoi nipoti, ha sempre dichiarato di aver creduto alla versione del marito quando sosteneva che Elisabeth fosse fuggita di casa per unirsi alla setta, capito? Però oltre a Rosemary dovete sapere che nel corso dei 24 anni di prigionia ci sono stati più di 100 inquilini che sono andati a vivere in quella casa, in quella struttura e nessuna di queste 100 persone ha mai avuto il presentimento che sotto casa stesse accadendo questo orrore. A questo punto quindi io ho due teorie, o Joseph era stato davvero bravo a nascondere l'accaduto per tutto questo tempo, cioè se era proprio messo bene anche a costruire il bunker in modo tale che non si sentisse nulla, neanche uno spiffero, oppure avevano tutti il salame davanti agli occhi. Non voglio puntare il dito contro nessuno, se non contro quel mostro di Joseph, ovviamente, ma a questo proposito voglio sapere cosa pensate voi e se credete davvero che Rosemary fosse all'oscuro di tutto. Non stiamo parlando di qualche giorno, o se vogliamo esagerare di un paio di mesi di segregazione, ma di 24 anni. 24 anni i ragazzi sono tantissimi e ancora non mi spiego come nessuno, nessuno di queste centinaia di persone non abbia mai avuto neanche il minimo sospetto che sotto quella casa ci fossero delle persone rinchiuse. Non è la prima cosa che ti viene in mente ovviamente, però dato che non ci si poteva entrare, visto anche come era lui, non lo so, magari il sospetto c'era ma nessuno ha fatto niente, perché con solo un sospetto che cosa puoi fare? Il 13 novembre del 2008 Joseph viene finalmente incriminato per riduzione in schiavitù, sequestro di persona, stupro, coercizione, incesto e per l'omicidio colposo del neonato Michael. In quegli stessi giorni, tra l'altro, Joseph viene salvato da un tentativo di linciaggio da parte degli altri detenuti del carcere in cui era rinchiuso. Il suo processo è iniziato il 16 marzo 2009 a St. Polten e il giudice affidato a questo caso è stato Andrea Humer. Joseph in tribunale si dichiara colpevole di tutte le accuse, ma con alcune eccezioni. Infatti si difende subito affermando di aver iniziato a molestare Elizabeth dal 1985, quindi quando la ragazza era già maggiorenne, ma questa sua versione viene subito smentita da una testimonianza videoregistrata della figlia, nella quale Elizabeth dichiara di aver subito violenze sessuali proprio da quando aveva 11 anni, quindi da quando era ancora una bambina. Amici ed ex compagni di scuola della ragazza, tra l'altro, a sostegno di questa tesi di Elizabeth, dichiarano che lei aveva più volte confidato loro che il padre la picchiava, mostrando anche i lividi delle percosse subite. Joseph viene poi anche smentito per quanto riguarda quella cosa che aveva detto sul fatto di essersi preso cura dei suoi prigionieri, ok? In maniera adeguata. Perché Elizabeth infatti evidenzia come molto spesso lui si assentasse totalmente anche per giorni interi senza portare nel bunker del cibo o dell'acqua, quindi sì, non penso fosse proprio un modo adeguato per prendersi cura di loro. Il 19 marzo del 2009 Joseph Fritzel viene quindi condannato al carcere a vita senza la possibilità di libertà condizionale. L'uomo accetterà la sentenza senza ricorrere in appello e andrà a scontare la sua pena a Stift Garsten, un ex monastero dell'Alta Austria trasformato in prigione, in una sezione però speciale del carcere per malati psichiatrici. L'ultima notizia che abbiamo di lui è molto recente, sappiamo che trascorsi 15 anni di detenzione, nel maggio del 2024, un tribunale austriaco ha autorizzato il trasferimento di Joseph in un carcere ordinario, quindi anche con gli altri detenuti di tutti i tipi. Il motivo è che ovviamente l'uomo ora è molto vecchio e nonostante disturbi mentali non rappresenta più un pericolo per l'incolumità di se stesso, oddio forse di se stesso sì, e degli altri detenuti. Joseph inoltre avrebbe cambiato legalmente cognome in Mayroff nel 2017 e oggi soffre di demenza senile. Se ricordate all'inizio della storia vi avevo detto che Joseph non sarà mai accusato di alcuni crimini da lui commessi, tra cui come abbiamo visto l'incendio alla pensione sul lago. Oltre a questo fatto però ci sono altri tre omicidi che gli verranno contestati ma di cui non verrà mai accusato. Quello di una ragazza 17enne di nome Anna Neumeyer, uccisa all'Inns il 17 agosto del 66. Poi quello di Martina Claudia Poche di Voklabruk, anche lei 17enne, trovata morta nel lago Mont-de-Sea nel novembre del 86. E quello della prostituta quarantenne Gabriella Supekova, avvenuto nel 2007 presso il confine tra Austria e Repubblica Ceca. Guarda caso Joseph si trovava sempre da quelle parti al momento degli omicidi, in particolare nel momento dell'omicidio di Martina Poche. Questo sarà un caso molto discusso perché il cadavere è stato trovato non lontano dalla pensione che Joseph aveva acquistato. L'uomo verrà però scagionato da tutte queste accuse per mancanza di prove. So che adesso siete curiosi quindi vi dirò che cosa è successo ad Elizabeth e ai suoi figli dopo l'arresto di Joseph. A seguito del processo Elizabeth ha passato un periodo di riabilitazione in una clinica insieme ai suoi figli e tutti quanti si sono poi trasferiti in una località in alta Austria assumendo una nuova identità. È stata data a loro una casa offerta dallo stato austriaco insieme anche ad una pensione e ad oggi Elizabeth vive con i suoi figli finalmente libera. Anche se probabilmente il trauma la accompagnerà per tutta la sua vita. I suoi figli Kerstin e Stefan hanno finito la scuola dell'obbligo grazie agli insegnanti privati e Felix invece che al momento della liberazione aveva solo 5 anni ha iniziato la scuola elementare con la sua nuova identità dovendo però superare degli iniziali problemi di apprendimento. Elizabeth invece ha tagliato totalmente i rapporti con sua madre Rosemary permettendole comunque però di vedere i suoi figli. Per fortuna questa è una storia a lieto fine diciamo anche se so che è difficile vedere il lato positivo dopo tutti questi orrori ma Elizabeth è sopravvissuta. I suoi figli stanno bene e sono quasi tutti sopravvissuti sono liberi quindi sì dai è andata bene alla fine. Fatemi quindi sapere cosa pensate di questa storia. In particolare voglio sapere cosa pensate del ruolo della madre Rosemary in tutta questa vicenda perché io non riesco a farmi un'idea ben chiara. Cioè pensate che anche lei abbia avuto magari un ruolo nel sequestro della figlia oppure proprio davvero non si immaginava niente? In 24 anni non si è immaginata nulla? Non lo so. Se in qualche modo anche oggi vi è piaciuto passare del tempo con me vi invito mi raccomando a mettere un mi piace a questo video o un non mi piace se invece non vi è piaciuto che vi devo dire. Intanto ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto parleremo di una ragazza che ha predetto la sua stessa fine. Sarà una storia assurda ve l'assicuro da brividi. Spero quindi che rimarrete nei paraggi per cui se vi è incuriosito ragazzi non dimenticate di iscrivervi. E adesso parlo con te. Sì proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare qui trovi il video che youtube pensa ti piacerà e ricorda che youtube non si sbaglia mai. E qui invece trovi la playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!